La Sampdoria perché è la prossima sul nostro cammino, ma non solo, il focus deve andare pure al Friburgo, il ritorno di Europa League e alla partita anche successiva, quella con l'Inter, quindi queste settimane, questo marzo sarà un mese molto complicato, sarà veramente difficile, saranno dei giorni combattuti anche fuori dal campo perché comunque l'altro giorno avevamo parlato di questa carta segreta della Covizoc, si è mosso qualcosa, non voglio ancora parlarne al momento perché aspettiamo di capire effettivamente che cosa succederà, se questa carta verrà data in mano alle gare della Juventus come sembra, cerchiamo di andarci con calma su questa faccenda anche perché poi il ricorso è a breve, se non brevissimo, queste settimane con l'arrivo di aprile sia dentro il campo sia fuori dal campo ci faranno capire quella che sarà, tra virgolette, la stagione della Juventus, qualcosa si è mosso, nella giornata di oggi tra FIGC e i ricorsi al Tarvari, lasciamo la parte, concentriamoci sul campo e poi parleremo a tempo debito di quella che invece è la più grande guerra che dovrà giocare, anzi guerra è una parola brutta, la più grande partita che dovrà giocare la Juventus che non sarà su un campo da calcio. E quindi domani è una partita vista la classifica all'apparenza abbordabile, dice Allegri, però gli ultimi risultati della Samp fanno capire che hanno sempre perso di misura. Domani è una partita importante per la classifica del campionato perché per la prima volta possiamo andare secondi a più tre sull'Inter, sappiamo l'importanza e la difficoltà, su questo e sulla classifica da 50 punti dobbiamo lavorare. Allegri parte in quinta, veramente in quinta, con una sicurezza forse fuori dal comune rispetto a quelle che sono state le ultime conferenze in cui ha sempre parlato in una doppia classifica da osservare, domani ha detto domani è una partita importante perché andiamo secondi. Questo forse è anche una sorta di volontà di comunicare qualcosa di diverso in primi sei calciatori perché Allegri è apparso molto preoccupato in questa conferenza stampa di vigilia di Juventus Sampdoria e ci torneremo sopra nei prossimi punti, Allegri secondo me ha fatto capire che quella di domani è una trappola in cui abbiamo tantissimo da perdere, probabilmente solo noi. Dice Pogba è a disposizione dopo la punizione del ritardo, non è sempre in punizione, non sarà sempre in punizione. La formazione però non l'ho ancora decisa ma vi do due titolari sicuri, il portiere e l'attaccante, infatti giocheranno Perin in porta e Vlaovic davanti, anche perché Moise Kain è squalificato per due giornate, Di Maria è fermo, Chiesa è fermo, davanti ci sono dei rischi perché la Juventus ha veramente pochi giocatori a disposizione, immagino quindi che sarà una sorta di 3-5-1-1 con un centrocampista a rimorchio dietro all'attaccante. Poi dice nel centrocampo tra Paredes e Barrenecea ne giocherà uno, quindi ci sarà questa sorta ribollottaggio, io immagino con Locatelli davanti alla difesa, uno tra Paredes e Barrenecea al posto di Fagioli, Fagioli un po' più avanti o Miretti un po' più avanti e l'altro è Rabiot, una roba di questo tipo. Siamo comunque neanche a 48 ore dall'ultima partita, vediamo chi ha smaltito la fatica, abbiamo tanti giocatori che hanno giocato molte partite, domani mattina deciderò un pochino quelli che saranno i giocatori a scendere in campo. Poi continuo a dire, non ho ancora deciso, vanno valutati i recuperi di Bonucci, perché Bonucci ha giocato l'ultima partita, è subentrato al posto e l'Alexandro ha giocato praticamente tutta la gara, le condizioni di Danilo e Bremer. Rugani e Gatti sono pronti, se deciderò di farli giocare non ci saranno problemi. Tornano De Sciglio e Eiling, Chiesa non ha niente, ha un fastidio, speriamo di riaverlo giovedì, speriamo davvero tanto che sia soltanto questione di aspettare qualche giorno. Di Maria a riposo, invece, giovedì sarà a disposizione, quindi Di Maria non verrà nemmeno convocato nella partita di domani, ma era abbastanza qualcosa di previsto, ce l'aspettavamo tutti. Sono le caratteristiche dei giocatori ad essere differenti domani, non è che se giochiamo con tre punte davanti siamo più offensivi e con una punta siamo meno offensivi, avremo anche compagnon dall'Under-23. L'importante domani è che la squadra capisca l'importanza della partita, servono attenzione e cattiveria calcistica, sapendo che la Samp è una squadra ben organizzata che corre a pressa tutto campo, serve una partita giusta domani. E poi la carezza nei confronti di Dujan Vlaovic, perché Allegri è fatto così. Difficilmente usa il bastone nei confronti di un giocatore che è in particolare difficoltà. Vlaovic in questo momento è in un momento di difficoltà evidente, palese, ma domani sarà il giocatore da cui dipenderà molto probabilmente la prestazione della Juventus, perché senza Di Maria sappiamo che saranno delle gare toste. Quest'anno siamo Di Maria dipendenti, Di Maria davanti, contribuisce all'80% probabilmente dello sviluppo offensivo e domani non ci sarà. E quindi Vlaovic dovrà cercare di caricarsi la Juventus sulle spalle, anche se non è un giocatore con quelle caratteristiche. Lui è un finalizzatore e si mette al massimo a servizio della squadra. Però dice, Vlaovic è completamente guarito dalla pubalgia. Giovedì l'ho tolto perché Di Maria stava facendo bene e Chiesa poteva essere un'arma in più. Domani poi Dusan è l'unica punta. Sono contento della prestazione che ha fatto e fisicamente sta bene. Sono fiducioso, gli attaccanti vanno giudicati per i gol. Nelle ultime due partite però Vlaovic ha fatto molto bene tecnicamente. Non sono d'accordo, e lo sapete perché ne ho parlato nelle pagelle ieri. E vi avevo detto che nelle ultime partite sì, Vlaovic mi aveva dato l'impressione di aver avuto un upgrade a livello tecnico e di gestione della partita. Ma nella partita con il Friburgo ho visto veramente un Vlaovic che è tornato indietro da questo punto di vista. Quindi domani mi aspetto una partita in cui Vlaovic vada a giocare bene di raccordo con la squadra. Spalla la porta, come gli chiede l'allenatore, e che faccia bene anche in zona gol. Perché con il Friburgo ha fatto male a tutte e due le cose. Con la Roma ha fatto molto bene invece come giocatore spalla la porta. Ma Vlaovic deve migliorare anche in queste cose qui. Per diventare un giocatore completo, è un giocatore con una potenzialità secondo me quasi illimitata. Per quella che è la sua età e quello che ci ha già fatto vedere su un campo da calcio. Da Vlaovic mi aspetto di più. E quindi voglio che inizi a crescere anche da questo punto di vista. Proprio domani che dovrà essere il giocatore da cui dovremo cercare di chiedere quel qualcosa in più. Proprio perché l'assenza di Di Maria, l'assenza di Chiesa, l'assenza di Ken. Domani manca tutto l'arsenale offensivo della Juventus. Ma c'è Dugian. Ed è assolutamente sufficiente. Questa settimana più che decisiva è importante, dice Allegri. La classifica in campionato si fa con le piccole. Gli scontri diretti abbiamo perso e pareggiato con la Roma. Perso con il Milan. Perso con il Napoli. Vinto con la Lazio. Vinto con l'Inter. E pareggiato con l'Atalanta. La differenza la fai con le piccole. E non devi sbagliare. Domani partita molto a rischio per questo. Allora, sono d'accordo e non d'accordo. Perché la classifica è vero che la fai con le piccole, ma gli scontri diretti servono per arrivare a vincere il campionato. Perché se non vinci gli scontri diretti, difficilmente poi vinci il campionato. Se ne vinci così pochi, perché noi ne abbiamo vinti due, Lazio-Inter e basta. Poi abbiamo perso, perso, perso e due pareggi. Quindi è vero, la classifica la costruisci con le piccole. Noi quest'anno non siamo nemmeno stati impeccabili con le piccole. Per ricordarvi un attimino, Monza, andata e ritorno. Sampdoria, all'andata. Salernitana, all'andata. Che è vero che quel gol era regolare, però l'approccio alla partita non è stato ottimale. Ce ne sono tante. Ce ne sono state tante. Quindi questa Juventus qui, anche con le piccole, non è ancora arrivata a quel punto in cui vabbè, allora sono sicuro che è sempre una partita un po' a rischio. E negli scontri diretti non mi sono quasi mai sentito tranquillo alla vigilia o il giorno stesso della gara. Bisogna migliorare anche di queste cose qui. Ma perché è giusto quello che dice Allegri? Non tanto per la verità della frase, perché non mi trova d'accordo. Cioè diventa la classifica che si fa con le piccole se vuoi arrivare solo nei primi quattro. Se questo è l'obiettivo, sì, certo. Allora il scontri diretti puoi anche quasi non vincerli mai. L'importante è le piccole. Ma proprio perché domani c'è paura che questa partita possa essere sottovalutata in un momento difficile per la squadra e anche numericamente. Perché ti mancano tanti giocatori. E quindi fa bene a mettere il focus e dire che domani è una partita molto a rischio per questa. La squadra deve capire che la partita di domani è determinante. E perché lui parte in quarta dicendo 50 punti, domani possiamo fare la partita, la partita è importante. Perché la squadra deve rimanere concentrata su un solo obiettivo, vincere. E infatti cosa dice Poellegri? Le grandi squadre, quelle che vincolo, sono squadre responsabili. Giocare partite con le prime in campionato e le partite in Europa sono facili da preparare. Con le piccole non devi giocare, devi vincerle. E a noi serve un salto di qualità mentale sotto questo punto di vista. I giovani quest'anno hanno giocato e sono stati aggregati. Un po' di giovani quest'anno hanno giocato con la Juve. La Juve però deve rimanere a vertice le prime quattro. La partita di domani ci farebbe fare un passo avanti. Sinceramente la storia dei giovani mi ha anche stancato. Perché penso che la Juventus possa, e anche il tifoso, la Juventus possa ritenersi soddisfatto per quello che è stato il percorso di quest'anno e di tanti ragazzi all'interno della Juve e di tanti ragazzi che in futuro torneranno fuori all'interno della Juve perché la next gen è una solida e concreta bellissima realtà. Quindi da questo punto di vista credo che bisogna essere contenti, felici, soddisfatti. E ancora una volta Allegri mette il focus. Ed è vero, noi dobbiamo crescere da questo punto di vista. Ve lo dicevo prima, avevo fatto un breve elenco di squadre contro le quali la Juventus non dovrebbe avere problemi. Invece dei problemi ce ne sono stati anche troppi. Dobbiamo fare questo passo in avanti a livello di mentalità. Perché non siamo tornati le squadre che vincono, le squadre forti, le grandi squadre. Noi non lo siamo adesso. Perché è vero che con i 15 punti saremo al secondo posto o giù di lì, comunque dentro la zona Champions. Ma l'altro giorno vi facevo il video e vi dicevo a marzo ci saremmo aspettati di essere già fuori dalla lotta Scudetto? Cioè, quest'estate, immaginandoci marzo, già fuori dalla lotta Scudetto, fuori dalla Champions, con la possibilità di giocarci un passaggio di turno in Europa League in Germania col Friburgo agli ottavi? No, non era questo l'idea che c'eravamo fatti di questa stagione. Quindi non si può essere soddisfatti. È ovvio che è un punto in evoluzione rispetto alla stagione dell'anno scorso dal punto di vista del campionato. Perché il campionato dell'anno scorso è stato decisamente più mediocre rispetto a questo. in cui la Juve subisce anche una penalizzazione che a livello mentale può essere impattante, ma trova anche la forza comunque di riuscire a incanalare alcune vittorie. Quindi io dal punto di vista della Serie A, rispetto all'anno scorso, vedo un passo in avanti, non il passo in avanti decisivo che mi aspettavo quest'estate. Però domani è importante, ha ragioni Allegri, proprio perché ci permetterebbe, in attesa di capire gli sviluppi di questi 15 punti benedetti barra maledetti, di immaginarci in una posizione differente di classifica. E quindi domani veramente bisogna vincere. E poi sulla penalizzazione Allegri dice non vedo la penalizzazione né come ostacolo né come stimolo. Noi quest'anno potremmo non vincere il campionato, è impossibile. Ma sul campo dobbiamo prendere un vantaggio sull'Inter. Questo a noi deve interessare. Quello che c'è fuori dobbiamo fregarcene. Sono contento che non parli di micro obiettivi, mini passettini. Aveva stancato quella storia. L'abbiamo capita, l'abbiamo digerita, l'abbiamo mandata giù. Queste sono le parole che voglio sentire dall'allenatore. Noi sul campo abbiamo fatto questo. Noi domani possiamo fare questo. Lo scudetto non lo possiamo vincere. È colpa nostra. Non abbiamo dato continuità. Non siamo stati bravi negli scontri diretti. Non siamo stati bravi in alcune partite quelle piccole che vanno in classifica perché dobbiamo fare un passo in avanti dal punto di vista mentale. Non lo possiamo fare. È colpa nostra. Però sul campo noi ancora possiamo collezionare queste robe qui. Queste sono le parole che voglio sentire. Questi sono i discorsi, i messaggi che vanno passati. Questa conferenza mi è piaciuta perché si è avvertita, secondo me, anche un po' la paura di Allegri in questo momento con alcuni giocatori fuori e con la squadra che può dire Vabbè, giovedì ci giochiamo in Europa, il passaggio del turno. Questi in Serie A sono messi male. Sai cosa? Domani. Facile. No, non è facile. Non è per niente facile. Non sarà per niente facile. Col Friburgo ero meno preoccupato. Sono più preoccupato per la partita di domani rispetto a quella che è stata la sensazione dell'andata di Europa League. Ma decisamente più preoccupato. E non possiamo mettere sullo stesso piano dal punto di vista tecnico le due squadre. Ma perché? Perché capisco quello che può pensare immaginarsi un calciatore giunto a questo punto. A maggior ragione in mezzo a una qualificazione europea. Domani mattina valuterò, ma un cambio davanti, tramiretti e fagioli, sulle compagnone e healing, che può essere utilizzato anche come strano attacco, lo abbiamo. E qua Allegri ci fa capire che, bene o male, sarà 3-5-1-1 con un trequartista alle spalle di Vlaovic. E poi dice, mi retti una mezzala classica. Preferisce partire da sinistra ed è bravo a smarcarsi. Fagioli una mezzala a destra. Si trova meglio per postura. Magari in futuro potrà giocare avanti alla difesa. Su Fagioli non sono d'accordo. Non lo vedo davanti alla difesa. Non che non lo possa fare. Lo può fare assolutamente. Ma secondo me è un giocatore che addirittura è più bravo in avanti. Io Fagioli me lo vedo addirittura più in là. Non tanto più indietro quanto più più avanti. Quindi secondo me non è da arretrare ma è da avanzare. Mi retti sono d'accordo che sia una mezzala invece. Infatti trequartista ogni tanto si perde tra le linee. È vero che è bravo a smarcarsi però non deve partire da lì. Deve arrivarci lì e quindi partire da più indietro. E fa ridere perché dice, mi retti una mezzala, però lo fa giocare spesso e volentieri davanti. Quindi questa cosa è un po' curiosa. Poi dice, avevamo tutti fiducia in Fagioli ma non me lo immaginavo così maturo. È sveglio e furbo. Sia lui che mi retti devono trovare e ammigliorare nella finalizzazione. Hanno possibilità di fare più gol. Qui sono molto d'accordo. Credo anche che mi retti abbia veramente bisogno di fare un gol. Fagioli l'altro giorno poteva chiudere la gara con il 2-0. Fagioli, secondo me, quest'anno sta facendo una stagione meravigliosa. E ricordarsi a volte che la prima stagione in Serie A, la prima stagione con la maglia da Juventus, stupisce ancora. E quindi, ripeto, da questo punto di vista qua io sono solo che felice e tranquillo. E poi Allegri dice, il calcio è strano perché Bonucci doveva giocare titolare domani. Poi è entrato per via dell'infortunio di Alexandro. Domani mattina vedrò se avrà recuperato. E capirò se potrò farlo giocare dall'inizio. Quindi, ancora una sorta di cantiere aperto questa Juventus. Dobbiamo cercare di capire a che punto siamo con i giocatori che sono a disposizione. E non sono tantissimi, dato che Milik non è ancora pronto. Speriamo che Pogba possa essere un giocatore importante per domani. Dico la verità. Immaginarmi il centrocampo titolare con Locatelli, Fagioli, Rabiot e Pogba dietro Vlaovic non mi dispiacerebbe, anche se credo che Allegri ci abbia fatto capire che un trapparedes e Barencea partirà dall'inizio. Quindi cerchiamo di capire meglio nelle prossime ore e poi domani mattina andiamo a fare un resoconto totale di quello che dovrebbe essere la partita di domani.